Sì, ma come ci sono gli ispettori della comunità europea per valutare la questione dei fondi europei qui a Napoli? Ma gli ispettori ci sono sempre, di ogni estrazione, luogo e provenienza, quindi devono giustamente controllare, fanno bene perché a noi fa piacere che ci sia una pressione, perché ci può stare sempre qualcuno che si rilassa, però non ci sono problematiche particolari o per meglio dire qualcuna ce n'è, sono le griglie di piazza Prebiscito, quelle potranno creare un grande problema se non si sblocca la situazione, approfitto però di questa presenza della Commissione europea per stimolare tutti a non perdere un giorno di tempo per far arrivare i treni sulla linea 6 per collegare Mostro Oltremare a Riviera di Chiaia perché quello è un punto che l'Unione europea giustamente vede con criticità, non c'è una responsabilità nostra, anzi noi abbiamo recuperato del tempo perduto, ma chiaramente in Europa vogliono sapere ma sta linea 6 quando si vedono i treni, quindi il tema è esattamente questo, quindi non ci sono, anzi posso darvi un dato che abbiamo portato l'altro giorno in Anci, io vengo dall'altro ieri dove c'è stato un coordinamento delle città metropolitane, Napoli è prima per capacità di spesa nel Pommetro, quindi Napoli spende, spende bene i fondi europei, ha l'apprezzamento non solo della coesione nazionale ma anche delle istituzioni europee, poi su qualche punto si può stare maggiormente in affanno ma giusto un dato, se pensiamo che la programmazione 2007-2013, noi i fondi li abbiamo avuti nel 2014-2015, cioè la programmazione è finita, noi stiamo facendo una corsa contro il tempo per non vedere definanziati una serie di progetti, la struttura veramente elefantiaca, ma non penso solo alla gestione attuale della guida politica della regione, ma anche a quella precedente sono le regioni che sono molto molto lente, ma questo poi è un tema ordinamentale di come si vorrà per il futuro gestire il tema dei fondi europei. Personalmente ritengo che per essere più rapidi, certi, concreti ed efficienti ed efficaci, si debbano dare più risorse direttamente alle aree metropolitane, e quindi meno alla regione che è un ente di programmazione e più alle città. In questo modo le procedure sarebbero più veloci, più rapide e i cittadini vedrebbero più rapidamente il venir luce di tanti lavori.